In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto, dopo di me viene un uomo che è avanti a me perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato ad Israele. Giovanni testimoniò, dicendo Ho contemplato lo spirito di scendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo spirito è lui che battezza nello spirito santo. Ed io ho visto e ho testimoniato che questi è il figlio di Dio. Ed io ho visto e il figlio di Dio.